Ti sei? Ciao, questa è Dovizia, giusto? Sì, è Dovizia. Questa è tutta Piazza del Campo, cioè protocollo vino. No, è andata bene anche alle fornacce, sta andando bene in provincia e tutto. Adesso si vede e si mette, si usa quello che devo fare. Per tutti i servizi? Tutti i servizi. La fa la cammina, vai. Si vede bene, va bene. Provizia. Ok, va bene. Perfetto? Perfetto.